Cosa ci fate qui voi due? Questa è la spada ancestrale Isaiori, lo spirito dei ninja Azuma. Tatsumaru, prendila. Da oggi mi sostituerai come maestro ninja. Posso, all'onore, guidare la tua mano. L'uomo forte sa quando è il momento di passare il proprio potere. I vostri progressi sono la mia ricompensa. Sì, maestro. Sì, maestro. Sì, maestro.